Musica Bene, bentornati al T-Rumors La nostra ultima intervista tra l'altro della serie dei Magnifici 6 che hanno vinto la possibilità di fare un tour e fare anche un tutoraggio che durerà un anno E siamo qui con gli Ismael Circus, innanzitutto i vostri nomi Alessandro Samuele Marco Allora, stavate iniziando a raccontarmi da cosa viene questo nome, quindi come mai Ismael Circus? Di chi è questo circo? È nato anche dal fatto che io pratico anche acrobatica e lavoro anche in un circo e comunque faccio anche spettacoli di strada con mezzo salti e roba così E quindi è venuta l'idea di associare comunque alla musica un po' un contesto circense di acrobazia, di funambulismo, insomma di fare questo parallelismo Quindi noi stasera ti vedremo fare acrobazie, no? No, no, le acrobazie vere le fanno loro musicalmente E te sei la voce giustamente? No, io sono il piano Sei il piano E basta, la voce non ce la metto, mi vergogno, ho questa voce Ma musicalmente a chi vi ispirate? Quali sono un po' le vostre influenze? Oltre ai Backstreet Boys, quelle vere, per il gruppo diciamo Avis Shea Cohen è un contrabassista che insomma ci appartiene diciamo abbastanza Robert Grasper che è un pianista, vabbè ve le sto rubando, sono quelle Lo sei bravo, ti stai comportando bene Grazie Basta, devo dirne ancora? No, mi stupisce perché... Dimmi Sì, sì, a livello... Poi queste più che le influenze dirette sono proprio gli ascolti che vengono... Cioè almeno che io faccio maggiormente Avis Shea Cohen, Brad Meldow All'interno del panorama Jets diciamo contemporaneo sono questi, sì, Robert Grasper Anche se a livello musicale forse la roba che si fa con Robert Grasper c'è un po' meno appigli In realtà ce n'ha forse più con Avis Shea Cohen, i progetti in trio suoi Una domanda, voi siete giovanissimi, come vi siete avvicinate a questo tipo di musica che insomma non è proprio facile, non è così mediata magari? Come... Il giovane, non è che sono giovanissimo, però loro sono più giovani In maniera naturale, ora io ho cominciato a suonare Jets diversi anni fa e un mio amico mi ha introdotto Avis Shea Cohen e altri artisti del genere Ed è venuto abbastanza naturale, ho cominciato ad ascoltare lui, Esbjorn Svensson è un altro che mi piace molto Ed è nata questa voglia di provare a fare quella musica E per caso una volta in una festa ho incontrato Samuele che casualmente suonava proprio quei pezzi che in quel periodo stavo ascoltando E quindi ci siamo tenuti in contatto insomma Non te la ricordi? Sì, come finire Chissà come mai Una festa in una chiesetta sconsacrata E quindi ecco è nata così questa cosa qua E basta insomma Ma quanto tempo che suonate insieme? Quanto tempo è? Ma meno di un anno in realtà, è abbastanza poco Sì, ma primavera insomma Inizio estate scorsa Tutti un po' i gruppi del T-Rumors sono gruppi che si sono formati da poco E quindi ora siete un po' alla fine di questo tour invernale Poi d'estate ci sarà un altro tour, mi hanno detto Ma voi cosa pensate di fare in questo anno che vi aspetta? Speriamo di suonare tantissimo Stiamo già organizzando delle... molto lentamente Però stiamo organizzando dei tour in parte dell'Italia settentrionale E auspicabilmente verso l'estero, nord E poi a maggio saremo a Bucharest per un festival In Slovenia Sicuramente anche verso i mesi estivi Per ora questo Poi insomma vediamo un po' come va la promozione Pesi circensi Circenzi, sì, ce li visitiamo L'est, il circo Ma invece la scrittura di pezzi vostri come va? A che punto siete? Fortunatamente noi praticamente non dobbiamo fare niente Perché fa tutto lui Tutto lui, la mente Il classici, no? Ci ha rispartiti e... Un po' diciamo il George Clooney della situazione La mente del piano George Michael Sì, George Michael Sì, sulle donne dopo il concerto Fa tutto lui Noi siamo solo dei... A noi ci pagano Diciamo ci pagano La scrittura è tutta di Samuele Sì Allora la domanda più difficile del mondo Che cos'è per voi la musica? Quanto tempo della vostra vita dedicata alla musica? Mi chiedo anche se fate altri lavori Per capire un po' la vita del musicista oggi Vai Grazie Ma io faccio altri lavori perché... Perché, insomma, vivo da solo Quindi non riuscirei probabilmente O comunque ce la farei troppo a pelo, diciamo A pagarmi tutto con la musica Do lezioni in una scuola... In una scuola... E private E poi cerco di farmi anche soldi Con concerti Però la mattina do i panini nelle scuole Questo è il mio lavoro Lei si sa quanti bambini ti vogliono bene? Quante bambine? Speriamo Cioè... Dalle le scuole... Questa la tagliamo? Questa la tagliamo? Alle superiori, eh Alle superiori Cioè, taglia Ma pure te ci avrai vent'anni E te? Io, anch'io, più o meno guai Io mi sono sempre dilettato di lavori altri alla musica Perché non ho sempre avuto comunque bisogno Ho fatto il giardiniere, il fabbro, un po' di tutto Tutti lavori abbastanza umili Mi piace proprio lavorare in contesti differenti alla musica Anche perché mi serve anche poi per avere più stimolo a livello musicale Non riesco a dedicarmi... Non sono uno che si dedica completamente alla musica Non ci riesco Ho bisogno di diversificare Desertificare And the last one? The last one... No, io dedico il 100% alla giornata della musica Perché insegno... Sono un insegnante E quindi... Dalla mattina alla sera praticamente Quindi torno a casa per cena E prima di cena ho soltanto o suonato o insegnato E quindi... Ecco... Sì, questo... Non è il vero musicista del gruppo Sì, no... Siamo tutti musicisti Però io dedico più tempo a molto all'insegnamento Insomma Bene, allora che cosa ci aspetteremo dallo show di stasera? Come vi ponete nei confronti della dimensione live? Domanda... Sempre aggressivi Sempre aggressivi, sì Aggressivissimi Meno jazz è possibile, diciamo Atteggiamento meno jazz è possibile Quindi ci spacciamo per jazz Per poi fare... Ad-decor Esatto Per lasciare di sasso la gente, capito? Andiamo a sentire il concerto jazz e poi... Anche le nostre prezzi sono queste Ma poi io ad esempio sono partito a suonare con il punk E poi con il punk rock E poi con il funk fusion Quindi le mie influenze iniziali sono tutt'altro che jazz E soprattutto non sono leggere, sono molto pesanti E la stessa cosa per lui Io proprio non in metal Metal, più spinto possibile Va bene, allora in bocca al lupo per tutto E vi vedremo stasera Speriamo di vedervi anche in futuro Grazie 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 Grazie